No, prima la domanda è ancora Libia e non se ne esce dalla Libia. Tu che ti noti tutte le cose, le frasi della settimana sulla Libia, quale sono state secondo te? Beh, quella di oggi di Frattini che dice quando gli inglesi e i francesi si muovono e dicono noi vogliamo fare, eccetera, dice anche noi abbiamo idee. Che c'è un po' del cortile della scuola, nel senso quando uno fa una proposta allora gli altri. E noi soffriamo un po' questa faccenda che gli inglesi e i francesi si sentono sempre i primi della classe. Quindi la risposta, anche noi abbiamo idee. E poi quella lì, Berlusconi, la frase bombardiamo. No, la frase esatta è sono addolorato per Gheddafi e mi dispiace. Ma come? Lo bombardi e ti dispiace? Sono contenta e mi dispiace. È una forma di... È una forma d'aria di bomton bellico o di empatia esplosiva. È una novità, il bomton bellico mancava. Quindi si è inventato anche questo. Senti, personaggio della settimana invece questo te lo dico io, ma forse non della settimana, forse dell'anno, se non degli ultimi anni, secondo me è Giorgio Napolitano, che sta diventando uno dei presidenti più amati, con Pertini. Sei d'accordo? Ho letto dei sondaggi di gradimento, 85% amano il presidente napolitano. È il segnale di che cosa, secondo me? L'hai detto, hai letto bene. Quando un presidente della Repubblica ha queste percentuali, queste sono le percentuali di un monarca molto amato. Cioè non è più una questione politica, è la figura in cui si raccoglie un paese. È successo già a Ciampi prima di lui. Quindi sarebbero Pertini, Ciampi e lui hanno avuto queste caratteristiche. La dimostrazione è che questo paese, anche se spesso è costretto a litigare, perché qualcuno ci tiene proprio a farci litigare, di fatto vuol stare insieme e vuole... Queste percentuali dimostrano che noi stiamo implorando di essere guidati, di essere ispirati, di essere rassicurati. Questa cosa... Altrimenti non si spiega. Dico noi collettivo, perché 85% non è destro-sinistra. Noi con questa percentuale stiamo dicendo per favore aiutateci e dateci una mano. E quindi il Presidente l'ha capito, i 150 anni in unità d'Italia l'hanno aiutato. Però c'è qualche cosa anche di commovente, veramente, d'aria, in cui c'è... Gli italiani con questo dicono ispirateci, guidateci, abbiamo bisogno di una mano, di essere smettete di litigare. Si fa sentire spesso il Presidente. È obbligato a far sentire spesso. Perché anche questa settimana... Ma perché devi... Innanzitutto c'è un Ministro d'Agricoltura, lo sposti. Arriva uno nuovo, Saverio Romano, al quale io chiederei subito, sarebbe bello averlo qua, e dire il Ministro quanto è grande una pertica milanese? Così per vedere se sa fare il Ministro d'Agricoltura. Voi lo sapete, non ridete. È una domanda... E poi, se il Quirinale è costretto a dire vogliamo capire perché, a che punto è lo Stato, perché è... La frase esatta è perché non voglio creare equivoci. Comunque, un procedimento con gravi imputazioni. Questa è la frase. Ma è proprio... Quella qui è stato sottoposto, Romano. Esatto. Quindi è proprio il caso di nominare qualcuno che comunque è in mezzo a un procedimento giudiziario per una cosa grave come il concorso esterno in associazione mafogliosa. Quindi questo Paese... Perché è proprio lui, quindi? Ah, non lo so, c'è Formigoni che è il PDL e lo chiedi a lui, mica a me. Secondo te? Io credo perché è di questo gruppo di responsabili che sono quelli che hanno tenuto sul governo e quindi qualcosa doveva dargli. Tra l'altro, avrai notato, i responsabili sono 29 divise in 6 correnti che lo trovo stupendo. Cioè, solo... Nella Italia dei Valori, ne parlavamo una volta scorsa, De Magisti litiga con Di Pietro che litiga con Grillo che litiga con Tranfaglia. In Forza, in Fli, Futuro e Libertà per l'Italia, appena Fini ha nominato Bocchino vice è cominciato la diaspora. La traduzione qual è? Che al centro, a sinistra, a destra, la cosa che piace in maniera erotica ai nostri personaggi è sentirsi chiamare presidente. Magari presidente del condominio, di due amici, ma questi vogliono essere presidente, vicepresidente, li evitano quando glielo dici. non c'è altra spiegazione, perché sei correnti, 29 persone, anzi, chiamiamoli responsabili, ma prima indipendenti, riuniti, responsabili, che letto tutto insieme diventa irresponsabili. Perché, insomma... Sarai almeno contento se questa settimana sono saltati fuori i soldi per la cultura. Questo non lo potrai criticare. Sono contento. Sono meno contento che dove li hanno piazzati nelle accise della benzina. Cosa sono le accise? Lo diciamo, questi nomi, sono le imposte sulla fabbricazione e il consumo di un prodotto. Le accise della benzina sono già molte. e siccome ho detto vuoi vedere che tira fuori questa storia della cultura, perché so, insomma, siamo in televisione, non diciamo di fare cultura, però siamo in televisione. Mi sono... Nelle accise della benzina, ti ho un elenchino, me lo sono preparato qua, noi stiamo ancora pagando oggi, nelle accise della benzina, sulle quali oltretutto va calcolata l'IVA, noi paghiamo le accise sulla benzina e l'IVA calcolata sulle accise. Tutto insieme fanno 0,80 centesimi, quindi sull'euro e mezzo è passa che paghiamo. Noi stiamo ancora pagando sulla benzina, ascoltate perché è bellissima. Guerra di Abissinia del 35, crisi di Sue... Non sto scherzando, ti giuro. Crisi di Sue del 56, disastro del Vajon 63, alluvione Firenze 66, terremoto del Belice 68, Friuli 76, terremoto, terremoto dell'Irpini 80, missione Libano 83, missione in Bosnia 96 e rinnovo del contratto degli auto ferro-tambiari del 2004. Tutte queste cose sono ancora sul prezzo della benzina. E così andate meno in macchina. No, perché questi sono prodotti a domanda rigida, si chiama, vuol dire che di fatto la gente può altre cose, magari un abito non lo compra o ne compra uno meno caro, ma la benzina la gente alla fine si deve spostare. Senti, volevo parlare di altre cose, ma insomma si sta facendo tardi. Hai seguito queste polemiche sui genitori del Parini che mettono il becco su quello che decidono di fare i professori? Secondo te, tu hai un figlio 18 anni, i genitori possono pretendere dai professori, spiegazioni, metterci il naso oppure no? Io ho conosciuto più genitori inadeguate in queste maniere, in queste materie che professori inadeguati. Quindi di solito fanno più danno i genitori, in assoluto. E' anche vero, è anche vero, però, che esistono alcuni professori che dovrebbero darsi alla pesca delle arselle, al ricamo e al cucito perché non sono tagliati per quel mestiere, perché sfogano le loro frustrazioni e le loro nevrosi sui ragazzi. Se è clamoroso, credo che i genitori debbano intervenire. L'ultima cosa che ti volevo non domandare ma comunicare perché forse non l'hai sentita. Oggi Mario Cervi che compie 90 anni intervistato alla domanda chi sarà il prossimo direttore del Corriere della Sera? Indovina chi ha detto? Beppe Severnini. Oh la miseria. Allora, benissimo, non lo sapevo. Io farei una cosa. No, no, no. Allora, tu hai qua nel talk Stella e Rizzo. Allora, li nominiamo subito con direttori, poi informiamo De Bortoli. Adesso vado a chiamarle e li ho l'annuncio. Bene, allora, congratulazioni. No, lo considero un complimento di Cervi ma il Corriere ha tantissima gente che mi ha offerto qualche direzione. Qualche direzione. parecchie volte. Quindi le hai rifiutate perché non ricordo di tua direzione. Ma non vedi come sono bello a sereno? Sarei arrabbiatissimo perché fare il direttore è veramente un lavoraccio e quindi per adesso andiamo bene così. Poi invecchiando non lo so. Corriere della Sera però ci sta. Adesso insomma parliamo di Costella e Rizzo perché se loro due mi aiutano facciamo il triunvirato poi prendiamo Ferruccio e fa quattro poi andiamo avanti eccetera. Ciao Severnini. Arrivederci. Grazie.